La presenza importante del sindaco Gianni Rotice qui nel cantiere navale Guerra Castigliego, testimonianza della solidarietà della città di Manfredonia per aiutare Fabio Salvemi, proprietario del motopeschereccio Persefone, a riperrare la propria barca e a recuperare la propria capacità reddituale di sostegno della propria famiglia. Sì, la solidarietà per Fabio, innanzitutto dei pescatori che sono riusciti con un'imbresa a tirar fuori quello che è rimasto dalla barca, ma soprattutto quello che si può salvare, quindi un grazie a loro e poi un grazie alla solidarietà di chi ha contribuito ad aiutare Fabio, tutti i cittadini che l'hanno fatta e poi da ultimo Pasquale che regalandola questa splendida sfumentazione ha dato un contributo non notevole. E questa è la città che vogliamo, questa è la città della solidarietà. Il primo maggio perché insegna di ritornare al lavoro, perché la giornata del lavoro va festeggiata dicendo che la gente deve tornare a lavorare, ecco perché il segnale è forte e questa città naturalmente risponde sempre alla grande. Grazie sindaco. Grazie a lei.